un caloroso benvenuto in questa serata umida come annunciato dalle previsioni del tempo la pioggia purtroppo non accenna a diminuire tuttavia le condizioni climatiche non appaiono proibitive le due squadre si possono affrontare come da programma chi sembra aver incontrato qualche difficoltà invece sono i tanti sostenitori presenti allo stadio stasera molti si apprestano a prendere posto in realtà solo in questo momento che spettacolo incredibile qui all'estadio Dregau uno degli stati più importanti del Portogallo gara iniziata siamo già nel vivo dell'azione Pulgar recupera palla con un ottimo intervento Benassi Pulgar fallo netto nessuna esitazione da parte del direttore di gara la gioca sulla destra la palla non è passata poteva essere un'ottima occasione al centro c'è sempre meno spazio bisogna essere precisi e veloci nel passaggio Ibraimovic raccoglie un passaggio dalle retrovie Enrique Caceres Vesella c'è la palla lunga in avanti Ibraimovic bell'anticipo pericolo sventato Benassi Milenkovic propone di continuare la manovra sul lato contrario Benassi prova a scavaccare avversari con una palla lunga colpita parata di Donnarumma lungo passaggio in avanti Rebic intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa Castrovilli Enrique Castrovilli decide di sfruttare la fascia intervento difensivo molto tempestivo ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione arriva Ibraimovic eccolo e trova bene il compagno grande intervento vale come un gol ha tentato l'azione personale conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per i farsi magari ci riproverà ancora troppi giocatori in area non c'era abbastanza spazio per tirare Blaovic ottima scelta di tempo fa sfumare l'azione offensiva cerca l'uomo là davanti Chiesa si fa largo con grande determinazione ci mette il fisico e conquista il pallone e questo è un passaggio quanto meno discutibile e sella sicuro in fase di palleggio allarga il gioco destra c'è il cross c'è il colpo di testa è mancata un po' di precisione davvero ottima l'azione sulla fascia laterale è grande l'occasione che si sono riusciti a creare è chiaro che la difesa doveva fare di più non si può lasciare crossare con tanta facilità decidono di giocarla all'indietro Castrovilli prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione si ferma qui la manovra è davvero una bella serie di passaggi questa Castrovilli tocco morbido riesce ad intercettare e non c'era nessun compagno smarcato Ibraimovic alza la palla in profondità verso un compagno Ibraimovic non riesce a servire il compagno la giocata troppo corta il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto Castrovilli Enrique l'avversario ha avuto la meglio la Fiorentina al calcio di punizione Castrovilli Castrovilli può provare occhio al traversone palla intercettata la loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area è una strategia efficace ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco può essere una soluzione per i minuti finali quando cerchi il gol disperatamente ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi per puntare gli avversari per creare spazio al centro ottiene un buon calcio di punizione Savo Castiglieco da lì può concludere miracolo di Dragoschi Castrovilli bella palla chance per tirare di un polo e il difensore respinge a non già riconquistato palla ottima giocata può crossare in area Samo Castiglieco Conti riceve in posizione interessante è un grande riflesso qui che grande parata una parata eccezionale ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano forse nemmeno i suoi compagni Ibrahimović una buona iniziativa ma non è bastata Castrovilli nessun gol finora Blaovic Benazer con l'intercetto cerca di pescare il compagno col filtrante prova con la palla filtrante riceve il passaggio a una buona avventura conclusione sul fondo non si scherza con questo giocatore ha sfondato centralmente doveva solo essere più convinto nella conclusione Benazzi Scodella in avanti Chiesa Pollirola opta per il lancio lungo non può sbagliare e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco Rebic si lancia sulla fascia sinistra provano a ripartire da dietro Caceres Manca proprio qualità nel palleggio il mister non sarà per niente contento Dalbert la fa sua Pesella Benazzi Pollirola Milenkovic Enrique Castrovilli Pulgar Blaovic Benazzi Pulgar sulla fascia in profondità e perde il duello fisico con l'avversario buona l'azione sulla destra vediamo come evolve Conti raccoglie un passaggio dalle retrovie cross verso il centro occhio al tiro splendido tentativo al volo ha colpito benissimo la palla fosse stato un po' più preciso sarebbe entrata pallone lungo in verticale Caceres il cronometro arriva al trentesimo giro di lancetta Castrovilli Enrique e trova il compagno alla peggio nello scontro di forza Pollirola Pulgar Pesella Enrique Castrovilli non si fa cogliere in preparato interrompe l'azione avversaria e c'è una palla e c'è una palla filtrante Benassi Blaovic Blaovic prova a prolungare Blaovic cerca il pallone filtrante ma c'è il recupero della difesa buona l'intenzione del passaggio ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione ferma l'azione in modo falloso si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari ci mette una pezza Conti riceve in posizione interessante e il cross è controllato dalla difesa che si buona avventura buona avventura tiro davvero da dimenticare bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza non stavolta però fa avanzare l'azione con il lancio lungo Pulgar Milenkovic Pollirola cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie Benassi recuperano il possesso del pallone Castrovilli ci mette una pezza intervento provvidenziale il suo Chiesa tocco preciso l'appoggio sulla fascia vuole il lancio filtrante Pollirola ci ha provato non è riuscito a servire bene il compagno però prova con la palla lunga e Guardalini ha alzato la banderina e fuori gioco Scodella in avanti Benassi c'è un bel pallone in profondità ora deve duellare con il portiere si attenta alla conclusione e c'è il gol del Milan un contropiede perfetto niente da fare per gli avversari una ripartenza da manuale trasformare un'azione difensiva in una manovra d'attacco rapida e decisa è meno semplice di quel che sembra un teggio di 1 a 0 a referto ora avranno sicuramente meno pressione addosso ma devono continuare a lottare un'entrata in scivolata da manuale sventa la minaccia Chiesa difesa ancora decisiva prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti gioca con un pallone lungo è libero di creare pericolo ed ecco il cro tocca con la testa tutto bello ma la conclusione non va a segno il Milan deve dimostrare maggiore attenzione da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose Milenkovic Rebic si libera della palla ed evita complicazioni ha provato a fare tutto da solo la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati Alessio Romagnoli ora buona avventura mostrano un buon controllo del gioco Alessio Romagnoli di forza lo hanno marcato molto bene non si è potuto liberare lancio lungo del portiere Benassi provano a ripartire da dietro pallone lungo in verticale Chiesa riceve la palla Castrovilli Castrovilli primo tempo che si conclude dunque qui le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti una sola rete messa a segno finora ma la partita è ancora lunga cosa pensi di questo primo tempo Luca? sono costretti a inseguire ma hanno il potenziale per ribaltare il risultato dovranno solo stare attenti a non concedere un secondo gol in contropiede il Milan esce dal campo con l'unico gol della partita a referto in una gara tesa ma comunque emozionante ancora tutto da decidere soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo il vantaggio di 1 a 0 non dà nessuna certezza devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco come se fossero ancora sullo 0 a 0 Enrique decidono di giocare per la lì indietro Benassi Pollirola Benassi Pollirola Caseres Enrique Castrovilli grande movimento nello spazio la butta in mezzo c'è la palla lunga in avanti Benassi avanza verso la porta Benassi va via in profondità è in ottima posizione Ibrahimovic e c'è il gol due gol in più è partita saldamente nelle loro mani proprio nell'angolo il portiere non poteva farci nulla palo e gol non c'era molto che il portiere potesse fare su questo tiro due gol di vantaggio e partita in discesa la partita ha sicuramente un padrone adesso è chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre tentativo di allungare il gioco un'altra azione in copertura lungo passaggio in avanti lancio lungo e alto ha portato scompiglio ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo fa avanzare l'azione sulla fascia Enrique ha spazio per affondare può crossare Samu Castiglieco riconquista la palla buona avventura arriva Ibrahimovic eccolo in Milan calcio di punizione Samu Castiglieco il suo pallone è morbido Caseres Milenkovic prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione bella apertura Castrovilli sulla fascia è libero la butta dentro lunga 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 troppo lunga buona avventura conti raccoglie un passaggio dalle retrovie Enrique Scodella in avanti Cutrone ha dimostrato grande reattività non si è lasciato sorprendere buona avventura estremo difensore la calcia lunga pallone intercettato intervento davvero provvidenziale Collirola gioca con un pallone lungo un pressing che non definirei asfissiante cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee è una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio lotta ma perde l'equilibrio la mette in mezzo Dragoschi senza problemi Chiesa ottima pressione la sua palla recuperata Cutrone ottimo il fraseggio Cutrone bel tiro ma sul portiere probabilmente aveva mirato all'angolino ma non è riuscito a metterla lì non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio ultimi controlli a bordo campo passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la boccia lungo passaggio in avanti pulgar la mette sulla sinistra Benna ser di forza arriva Ibrahimovic eccolo allarga il gioco con pallone a sinistra Rebic non riesce a mantenere il possesso buona deviazione del portiere buona avventura Ibrahimovic e la difesa può tirare un sospiro di sollievo è stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo pulgar il discorso qualificazione sembra ormai chiuso la tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata Chiesa il portiere si oppone Benna ser autore di un assist oggi difensore incollati a uomo la manovra offensiva fatica a respirare non è una sorpresa quando un giocatore finisce sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero uno Benassi la Fiorentina non sembra riuscire a controllare bene la palla in questo frangente a sinistra con il passaggio prova il cross bell'intervento del portiere la giota in profondità sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene dovranno riprovarci filtra la palla in profondità alla peggio nello scontro di fuori cutriere ci mette il fisico e conquista il pallone gioca una palla lunga soltanto rimessa laterale qui va in scivolata vediamo se crossa castrovilli prova a verticalizzare si libera la grande c'è la palla lunga in avanti la gioca a sinistra se ne va chiesa chiesa la mette in avanti chiesa palla in avanti verso il compagno iniziativa promettente ma gli avversari hanno fatto buona guardia è riuscito a passare castrovilli intercetta il passaggio pericolo Savo Castiglieco Savo Castiglieco non riesce a servire il compagno lo spazio per il passaggio l'ha visto giustamente ci ha provato ma non ha toccato nel modo giusto il pallone provano a ripartire da dietro castrovilli la mette sulla sinistra castrovilli Ibraimovic riconquista la palla ora buona avventura e perde il duello fisico con l'avversario la Fiorentina si riappropria del pallone può riempostare il gioco Vescella Pulgar l'arbitro indica chiaramente la rimessa la fiorentina non riesce a salire la fauna l'avversario l'arbitro indica l'arbitro indica l'arbitro indica La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione Già annunciate peraltro il quarto uomo In effetti non ne aveva più L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo Benassi, di forza Scatta verso il pallone Cutrone Castrovilli Il Milan a calcio di punizione Hernandez Intervento rischioso E gli prende splendidamente il tempo in scivolata Pulgar Ballone lungo in verticale Costringe l'avversario al fallo C'è tiro E potevano portarsi sul 3 a 0 Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione E lui lo sa Chiesa Chiesa Passaggio sulla destra Opta per il lancio lungo Ecco il filtrante Arriva sulla palla e interrompe l'azione Cutrone Prova la soluzione in fascia Scatta verso il pallone Riceve un pallone in Cutrone La sua conclusione manca allo specchio della porta Aveva voglia di tirare a tutti i costi Si vedeva Ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta Si fa trovare sulla traiettoria Il Milan sta difendendo con tutti i suoi effettivi Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie Pulgar Cross verso il centro dell'area Allontana il pericolo Va di testa Fuori di poco sfortunati qui Esito sfortunato Ma ha spaventato non poco gli avversari Ci mette il fisico E conquista il pallone Lancia il compagno in profondità Attenzione Vesella Molto solido Il suo intervento difensivo Non si è fatto superare Cerca di sfruttare gli spazi laterali Benassi sul pallone Che si è l'autore del fallo Errore qui Pallone sprecato Fallo è anche piuttosto evidente per la verità Arriva il direttore di gara Vediamo cosa decide Scatta la munizione Prevedibile La Fiorentina Adesso due giocatori ammuniti in questa gara Benassi si è fatto trovare pronto Caceres Enrique Pulgar Enrique Prova a giocarla in profondità Spazza il più lontano possibile E l'arbitro chiude qui la partita Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita E l'arbitro chiude qui la partita